Independence Key è il rivoluzionario dispositivo nel campo della criptografia digitale. Maneggevole, compatto e solido, basta inserirlo nella port USB del tuo computer. Racchiude in sé lo stato dell'arte della moderna tecnologia di sicurezza. Le chiavi criptografiche non lasciano mai il dispositivo, sono generate in un chip dedicato, sono protette dall'accesso fisico esterno e, grazie al Security Cap e al Data Bank, puoi eseguirne il backup hardware in totale sicurezza e autonomia, senza dover dare le tue password a nessuno o trascriverle su supporti insicuri. Independence Key è dotata di chip criptografici e di autenticazione appartenenti alla piattaforma di sicurezza TPM, Trust Platform Module, e di un velocissimo motore criptografico hardware AS256, in grado di superare la velocità di 100 Mbps, una velocità da primato mondiale che ti permette di lavorare sui file anche di grandi dimensioni, in tempo reale e senza doverli prima decriptare. Independence Key ti consente di lavorare sui file già criptati, senza crearne copie in chiaro e senza lasciarne traccia, e al tempo stesso ti consente di utilizzare gli strumenti di sempre senza cambiare le tue abitudini. La porta USB posteriore di Independence Key ti permette di collegare, criptandole automaticamente, periferiche di storage, interi dischi, tastiere e cuffie USB. Independence Key è l'unico dispositivo al mondo che ti offre la garanzia di fare telefonate voice over IP completamente criptate e protette a livello hardware. E se vuoi trarre il massimo dalle capacità di sharing e criptografico di Independence Key, puoi caricare i tuoi file e cartelle criptografati sul cloud, o inviarle per email e condividerli immediatamente con amici, colleghi, clienti e fornitori. Il cloud sicuro è finalmente una realtà! Independence Key è il primo dispositivo al mondo che consente di condividere file di ogni tipo e dimensione in maniera sicura, grazie alla funzione Crypt and Share. Con un semplice clic, condividi ciò che desideri con qualsiasi altro utente del tuo network in maniera protetta e sicura. Independence Key è la rivoluzione nella criptografia. Independence Key. Security. Privacy. Freedom. Independence Key è la rivoluzione nella criptografia.